Mettete al mondo almeno tre figli come la primità. Uno, chissà, ma che non si faccia sacerdote o non vada ad ingrassare le nostre comunità religiose, maschili e femminili. Vedete, proprio così, abbiate il coraggio di mettere al mondo i figli. Poi direte, come si fa a tenere un figlio? È fatica, è fatica. Ma nulla è impossibile a dire. Il Signore sia con voi.